mi sento che rispetto il femore pedala, pedala qua bisogna essere capace vuoi vedere questo film? premi server oppure telefona 02 76 11 85 30 acquistare è semplice collega il ricevitore alla presa telefonica lo vedi pure i fermenti lattici lo sanno e se rappresentassimo il sirano di bergerac giacomino sempre con quest'americanate finiscila va io sarei il protagonista il sirano se non altro riscambiate sul naso l'avessi io un naso così? è un piccredo chiedimi se sono felice comunque chiedimi se sono felice sul palco vuoi vedere questo film? premi server oppure telefona 02 76 11 85 30 acquistare è semplice collega il ricevitore alla presa telefonica alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. E molto altro ancora. Palco lo sappiamo tutti quanto siamo affezionati, anche perché dopo le 11 e mezza... È facile, è unica, è divertente. Impiccheremo! Prova anche tu, su Palco. Mettiti comodo, sta per iniziare il tuo spettacolo. Su Palco trovi il cinema che preferisci all'orario che ti è più comodo. Sul canale IP, in 30 minuti c'è una proiezione, una multiprogrammazione 24 ore su 24 che ti permetterà di non perdere mai più un film. Palco, sei tu a decidere. Grazie. 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 Grazie.